Ma dai, non ti ho già dato oggi, basta no? Ma dai, ti prego, non puoi. Basta adesso, basta no? Basta, basta dai, vuoi? Oddio, oddio, dai, cosa c'è? Eh? Eh? Non ho capito, cosa vuoi? Eh? Ma non ho capito, parla chiaro, invece di borbotare, parla chiaro, cosa vuoi? Ma dai, ma non capisco, suor speranza, e tu sei suor speranza, sei sempre lì che aspetti, ma ti devo dare. Basta, già vuoto, hai già vuoto, vuoi ancora? Basta, vu vu vu, vuoi ancora? Ma roba da matti, ma non posso io tutto giorno con questa chaniaccia. Ma bene, ma, schniap, schniap, mastica, invece di potraggio tutto così. Che si dice? Grazie? Eh? Si dice grazie? Eh? Sfor speranza. non molli mai vado 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 si si adesso vado cosa vuoi? non ho capito cosa vuoi? eh? ma non ho capito vieni qua vicino a parlare invece di restare laggiù su cosa vuoi? eh? cosa? come sa che moto sarebbe quello lì? oh via questa roba qua? eh? eh certo che ora è adesso? sei 20 minuti in anticipo sai? sull'ora prevista che dovrei fare io? darti lo stesso? eh? non ho capito cosa dici? eh? devo darti lo stesso? ma hai l'orologio che va avanti però sai? eh? ma tu te la sei meritata? o no? sì mi dici? eh tesoro eh vabbè guarda no ho tempo adesso no? per cui ti do tutto in un colpo fatelo durare hai capito? ha stufa stand eh? no tu io ti do tutto in un colpo io ti do neanche finito di dire guarda 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 che vergogna tutto in una mangiata ma dai e adesso cosa speri? sua speranza? vai 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 ha le tue occupazioni vai madonna santa toglie un boccone me l'ha mangiato eh slap slap sì ma vergogna di una vergogna adesso si è messa là tranquillo nella sua postazione ma non è detto che prima che adesso sono le 8 di sera no? non è detto che voglio andare a dormire non tenti nuovamente a un nuovo assalto ma stavolta qua non mi frega hai capito? cane oppla ah che vittaccia ahahahah ahahahah